Ciao, sono Luca Roncato, sono della Femca di Padova e Rovigo, sono delegato e lavoro alla Nuova OMPI di Piombino Dese, un'azienda che tratta siringhe, lavora il vetro in pratica e fornisce a livello mondiale tutte le farmaceutiche, siamo specializzati in questo campo. Perché hai scelto il delegato della Femca? Ho scelto la Femca, CISL, perché ritengo abbiano delle idee, dei principi che rispecchiano un po' la mia idea di sindacato, quello che deve fare un sindacato, per cui assistere a quello che è il lavoratore e cercare di migliorare la propria vita anche all'interno delle aziende. Perché purtroppo non sempre questo succede, ecco, il sindacato come corpo intermedio di mediazione, diciamo, con l'azienda, secondo me ci deve essere ed è basilare, insomma, nella vita sociale. Cosa miglioreresti del tuo lavoro di delegato? Sicuramente migliorerei quello che è la formazione, no? Ossia che penso ci sia molto bisogno di formazione delle persone e di cultura, soprattutto sindacale. Ok? Perché anche, soprattutto nei giovani, purtroppo è difficile da, come dire, mettere dentro, no? E far capire ai giovani qual è effettivamente quello che fa il sindacato, la comunicazione. Perché purtroppo tanti vedono il sindacato in maniera un po' distorta, secondo me, no? Sia appartenenti magari a linee politiche, eccetera. Invece la CISL, come sappiamo, non ha di questi punti di riferimento come magari altri sindacati hanno a livello politico. Noi vogliamo solo il bene dei lavoratori e cercare di migliorare la vita dei lavoratori. Questa è una cosa che logicamente bisogna cercare di costruire nel comunicare il meglio possibile, insomma, con vari strumenti ai lavoratori.